Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership system integrator. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un partner competente e affidabile nell'ideazione e implementazione di soluzioni tecnologiche volte alla digitalizzazione dei flussi e dei processi, per la comprovata capacità di declinare la propria expertise in diverse aree di competenza, assistendo il cliente, analizzando le diverse esigenze e fornendo la soluzione più adatta. Andiamo subito a vedere chi è il vincitore. The winner is WebGenesis. Saluto e do il benvenuto in collegamento con noi Antonello Posterino, presidente di WebGenesis. Grazie a voi, sono onoratissimo di questo premio che apprendo in questo momento. Sono sinceramente molto contento perché è il frutto di tanti anni di attività e di grande impegno e essere premiato da un format importante e di grande prestigio come il vostro avvalora di più ancora questo nostro riconoscimento. Grazie. Infatti, grazie. Ci mancherebbe. È un piacere per noi. Ci sono dei finalisti e poi naturalmente in sede di premiazione si scopre chi sono i prescelti. Naturalmente parliamo di eccellenze del territorio con diverse competenze. In questo caso si parla di innovazione e leadership, si parla di tecnologia, di digitalizzazione. Dottor Posterino, le chiedo insomma tutte parole che sono diventate, lo erano già, non fraintendiamoci però che sono diventate veramente centrali quando si parla di business. Lo sono assolutamente. Noi sin dall'inizio abbiamo immaginato di costruire un system integrator che noi definiamo 4.0. Uno dei principali problemi dei system integrator attuali, secondo la nostra modesta considerazione, era che si tendeva ad andare in un fronte di tuttologia senza delle opportune verticalizzazioni tecnologiche di competenze. Sin dall'inizio abbiamo generato un system integrator che in realtà avesse al suo interno delle business unit ben definite con delle verticalizzazioni di competenze, puntando essenzialmente sulla competenza, sulla qualità e sull'affidabilità del servizio erogato. In tal senso tale scelta ci ha premiato negli anni perché abbiamo negli ultimi dieci anni costruito una crescita costante e continua che ci ha consentito di essere tra i system integrator più innovativi, non dico leader di mercato perché ci sono dei system più grandi di noi, ma sicuramente tra i più innovativi sul panorama nazionale. Come guardare al futuro, facendo anche tesoro di quest'anno che ci stiamo lasciando alle spalle? Questo è un anno particolare sicuramente, dove la tecnologia ha preso un ruolo predominante nella vita quotidiana di ognuno di noi, però anche in questo contesto va fatta secondo me un'opportuna analisi di riferimento. Anche nel 2020, nonostante il Covid, la nostra azienda avrà una crescita più o meno del 20% rispetto all'anno precedente, però un'attenzione particolare che noi vorremmo mantenere nel 2021 è sul concetto di umanizzazione del processo di innovazione, perché è vero che l'innovazione sarà uno degli elementi fondanti ancora di più per il futuro, però con un eccessivo orientamento verso le procedure di smart working, di delocalizzazione. Noi vogliamo mantenere per l'anno prossimo due elementi particolari. Uno, comunque mantenere la vicinanza alla territorialità laddove operiamo, creando dello sviluppo sostenibile e creando del valore aggiunto. E due, continuo a dirlo, un processo di umanizzazione e armonizzazione della tecnologia, dove l'uomo deve essere sempre messo al centro e di conseguenza sicuramente la tecnologia al servizio dell'uomo e non viceversa. Certo, assolutamente sì, per rendere tutto ancora più fruibile e efficiente. Assolutamente. Sembrano dei concetti banali ed elementari, ma in realtà la mia esperienza mi dice che negli ultimi anni si è puntato eccessivamente al contenuto estremamente innovativo. Ma la vera innovazione, a maggior ragione se parliamo di tematiche come la pubblica amministrazione, è rendere fruibile la tecnologia, rendere la tecnologia uno strumento per migliorare il processo e non per complicarlo. Giusto, assolutamente sì. Quindi ottimo, ottimo punto di partenza e ottimo sguardo al futuro. Io ringrazio Antonello Posterino, presidente di WebGenesis, naturalmente complimenti a lei e a tutto il suo team per questo riconoscimento. Grazie a voi, siamo onoratissimi di questo riconoscimento e molto felici. Grazie. Grazie, arrivederci.